L'Einstellen mi entusiasmò moltissimo e in qualità di dottore trovai che fosse di grande importanza diffondere questo insegnamento tra gli uomini. Sono idee tanto, tanto piene di forza ed è importante riconoscerle. La nipote di un aiutante, il quale collaborava lì in America, soffriva di una mebiasi contratta in guerra nel 1990. La cosa era andata così avanti che le dovettero togliere tutto l'intestino crasso, modificatosi a seguito di una grave infiammazione. Non esiste una cura reale per questo problema, non poteva essere trattato con le medicine e neanche più chirurgicamente. Aveva dolori continui, doveva andare al bagno 20 volte al giorno e perdeva sangue, muco e così via. Gravi crampi al basso ventre, questa era la sua vita dal 1990 fino al 2004. Poi è venuta alla conferenza e durante la conferenza ha vissuto una cosa meravigliosa, ma non ne ha parlato neanche dopo. Due settimane dopo tutti i disturbi erano scomparsi, non soffriva più di disenteria, nessun dolore. Si è recata regolarmente dall'internista per dei controlli, che è rimasto senza parole. Non riusciva a spiegarsi come mai ora all'improvviso tutto fosse normale dopo 15 anni. Ha rifatto la biopsia per controllare, non c'erano più alterazioni del tessuto, nessuna alterazione della mucosa intestinale, era sparito tutto. Quindi lei ora si sente bene. Ha riacquistato la forza, l'energia che le mancava. Ha detto che si sente rinata. Per lei è stata un'esperienza meravigliosa. L'ho saputo solo sei mesi più tardi a New York, quando abbiamo fatto un circolo di lavoro. E poi lì ho saputo di questa guarigione. Anche la guida del paese degli Stati Uniti, Richard Leo, viene a sapere di Bruno Gröning a una conferenza informativa medica. Sente la radio e la notizia e ne è incuriosito. Mi ricordo che ero a casa, nelle cascate del Niagara, a New York. Ascoltavo una trasmissione alla radio di mattina presto. Un annunciatore parlava con un medico in Germania dell'insegnamento di un uomo di cui non avevo mai sentito nulla e che diceva di come i nostri pensieri e anche quelli degli altri influenzano la nostra salute. Così una settimana più tardi sono andato a una conferenza medica nell'Università di Buffalo. Quando mi sono trovato nella sala, appena è iniziata la musica, ho sentito qualcosa nel mio corpo. Era come se tutto formicolasse, e me lo ricordo, è stata un'esperienza molto emozionante. Ne ero commosso. Non ho mai più dimenticato questa prima volta. Ero così emozionato, ascoltavo la conferenza e mi suonava familiare. Non avevo mai sentito parlare prima di Bruno Gröning, ma quello che diceva mi sembrava noto. Mi sono detto, queste sono anche le mie convinzioni, io ci credo. Dopo, al termine della conferenza, ho detto al dottor Camp, penso che dovremmo cominciare a fare qualcosa così a Buffalo, New York. Credo di poterlo fare. Questo è stato l'inizio della mia attività nel circolo degli amici. Nel periodo successivo, anche lo stesso Richard Leo riceve la guarigione. è liberato dall'artride reumatoide, da una sindrome cervicale, da un'allergia ai gatti e dalla depressione. Con gli anni, nell'America del Nord, sempre più persone si sono interessate al circolo degli amici e sono solte numerose comunità. Oggi si incontrano comunità ovunque, distribuite sull'intero paese, al nord, in Alaska, a cominciare dalla costa occidentale giù fino ai confini del Messico e poi distribuite per tutto il territorio fino alla costa orientale, dove ero stato molto implicato per arrivare fino in Florida. Lì mi sono recato anch'io, talvolta volando avanti e indietro da Atlanta. Perfino da qui al Vermont, dove si è già ai confini canadesi e si va più oltre. Oggi, anche in Canada, ci sono molte comunità. Subito dopo il confine c'è Montreal. Anche lì, in città, ci sono alcune comunità. Si è sviluppato tutto a una velocità estrema. Adesso ci sono molte, molte comunità. È diventato forte questo paese. Vengono anche sempre più medical doctors, cioè medici americani. Mi ero recato con mia moglie e un mio paziente a un'introduzione. Me ne andai via da lì e pensavo, qui davvero c'è qualcosa. In vita mia avevo già avuto a che fare con molte di queste faccende spirituali. Qui potevo sentirlo, potevo sentirlo veramente sulla fronte. Uscito da lì, potei muovere di nuovo la mia spalla a 360 gradi. Prima potevo sollevare il mio braccio destro solo fino all'altezza della spalla. Lo dissi a mia moglie e lei rispose, lo sento anch'io, anch'io mi sento bene. Fu così che la settimana dopo andammo alla seconda introduzione. Lo percepimmo di nuovo. Poi siamo stati invitati a questo convegno e durante il convegno ho percepito una quantità incredibile di energia, così tanta che mi sono sentito come se avessi in me un raggio di luce, soprattutto in petto. Sentì parlare per la prima volta del Circolo degli Amici e di Bruno Gröning attraverso un fax dalla Germania del dottor Bletner, pervenuto nel mio studio medico. Alcuni dottori tedeschi sarebbero venuti a Freeport, Maine, per presentare l'opera di Bruno Gröning. Andai allora sulla pagina internet e rimasi totalmente affascinata dalle guarigioni documentate. Al momento della conferenza io ero a casa, distante solo 5 miglia. Poca cosa, io sto sempre in giro. Dunque andai con mia sorella e incontrai un medico tedesco. L'Einstellen mi entusiasmò moltissimo e in qualità di dottore trovai che fosse di grande importanza diffondere questo insegnamento tra gli uomini. Non conosco nessun'altra associazione medica con dottori e altri operatori sanitari, soprattutto con medici che hanno un interesse per la guarigione spirituale e che mettono insieme il nostro sapere scientifico per verificare le guarigioni. Così l'opinione pubblica viene a sapere che esse accadono davvero. Ho esaminato il ruolo del pensiero nella guarigione per oltre 36 anni. I buddhisti hanno esaminato l'atteggiamento spirituale relativamente alla guarigione e altro da 2600 anni. E' chiaro che il pensiero nel processo curativo è uno dei fattori principali. Tanto più siamo capaci di muovere il nostro pensiero in una direzione sana, tanto più esso influenza la guarigione, influisce sulla pace interiore, sulla qualità della nostra vita intera. Ai miei occhi Bruno Gröning ha insegnato molte cose giuste. Abbiamo visto che coloro i quali sedevano e ascoltavano la sua conferenza sperimentavano la guarigione solo perché sentivano ciò che egli diceva e grazie all'influenza che esercitava sulle loro convinzioni personali. Sono idee tanto, tanto piene di forza ed è importante riconoscerle. Io ho percepito l'energia dello Heilstrom fin dall'inizio, ma attraverso i mesi e gli anni è diventata più forte. Sento sempre come un formicolio alle mani e spesso anche ai piedi, talvolta al viso e anche un senso profondo di pace, tanto che talvolta non vorrei smettere mai. Alcune volte resto lì per 20-30 minuti. Ho anche notato che in gruppo la corrente dello Heilstrom è molto più forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.